Intanto va corretto assolutamente la percezione che il popolo italiano ha e deve avere della politica e quindi il giullare deve essere comunque messo da una parte. Se fai il giullare è un mestiere dignitosissimo, mi fa ridere, mi diverte, ma non puoi fare la politica. Cioè, se vai a fare la politica da giullare non esiste. Come se la vai a fare anche, io dico, da magistrato, a meno che non cambino le leggi e dicano che se tu da magistrato puoi fare il politico va bene, ma poi non potrai tornare indietro. Perché se no altrimenti questo ping pong fa saltare tutto, è vero Enrico? Quindi esistono delle correzioni in parte che i media come noi devono fare spiegando alla gente come stanno le cose altre correzioni sono il ripristino della validità della nostra Costituzione. Io non so come finirà Enrico, ecco, in chiusura magari dacci un ultimo parere su questa storia perché non so come finirà la questione della Costituzione stuprata, cancellata, derisa, violata di questo periodo perché qualcuno dovrà pagare. Prima o poi, i cittadini italiani diranno ma scusate, la Costituzione è valida, questa cosa che è stata fatta è andata contro. Ma scusate, ma se io rubo una mela al mercato, ma restate, se non ti pago 100 euro di tasse mi fai un procedimento e qui abbiamo, cioè è successo l'ira di Dio, adesso c'è stata l'arma di distrazione di massa dei deputati quei cretini che si sono fatti i 600 euro, ma voglio dire, cinque scemi li trovi dappertutto il problema è chi ha fatto la legge, il problema è come si consentano altri sprechi Enrico lì dobbiamo focalizzarci e sulla capacità che hanno le persone di governare e questo voglio dire, come ne usciamo, insomma, accadrà secondo te prima o poi che qualcuno, insomma, si desti e dica porca puttana cioè qui l'Italia deve risorgere, lo dice anche il nostro inno cioè l'Italia si destra. Quando si destra l'Italia Enrico? Eh, guarda, un tempo i partiti facevano due cose principalmente la selezione della classe dirigente e la formazione politica per cui tutti conoscevano la Costituzione per cui il politico dibatteva, aveva posizioni molto spesso divergenti però rimaneva fermo il principio costituzionale cioè i diritti fondamentali erano sacri oggi non si conosce più la Costituzione da una parte ci sono le lobby che aggrediscono la democrazia e dall'altra c'è una, purtroppo, una masnada di incompetenti che foriscono questo processo di transizione e quindi il Paese ormai ha perso la bussola noi quello che possiamo fare è ricominciare dalla Costituzione non possiamo fare selezione della classe dirigente ma possiamo fare un pochino di aggiornamento su quelli che sono i diritti fondamentali che ogni cittadino ha e che delle volte pensi che non abbia la consapevolezza di avere quei diritti perché non li esercita anzi si mette dalla parte di coloro che li calpestano ma lo fa inconscientemente è la sindrome di Stoccolma in qualche modo è una sindrome di Stoccolma ma non pensi che abbiano anche un po' di paura io per esempio personalmente ho un po' di paura è la sindrome di Stoccolma proprio perché hai paura ti metti dalla parte di chi ti fa violenza io non mi ci metto mai però io ho paura non te in generale ho paura nonostante abbia paura non mi ci metto però io ho paura perché quando vedo la commissione dei poteri cioè la politica, la magistratura che hanno commissioni la sentenza Frattini sulla questione è quella grida vendetta io penso che verrà studiata forse nel futuro da qualcuno che dirà come non debbono essere fatte le sentenze cioè una sentenza che dice sì, c'hai ragione però ti do torto e rimando tutto al 10 settembre cioè come c'hai ragione però ti do torto fatemi capire è come Renzi quando dice in aula sì, Salvini ha ragione però lo mandiamo a processo cioè io di fronte a queste cose ho paura onestamente perché poi se qualcuno dice questo e poi dice ah beh ma adesso ti porto in tribunale vedrai che porca miseria io ecco qua la Costituzione c'ho ragione e poi vedi la sentenza e dici oddio ma che hanno scritto? come possono avere interpretato? cioè che cosa hanno scritto qui? com'è possibile questa cosa? e allora cominciate ad avere paura hai paura hai paura io ho paura anche perché nel diritto cioè tra gli uomini di diritto si dice sempre una cosa che l'unica cosa che non è in contraddittorio è il rispetto costituzionale del contraddittorio per cui il giudice quando si pronuncia senza contraddittorio ossia senza la controparte dovrebbe utilizzare quello strumento con un rigore con una voglio dire meticolosità con un razziocinio con un se tu lo utilizzi in maniera abnorme totalmente illogica e sto dicendo non mi riferisco alla sentenza sto dicendo in linea generale laddove voglio dire il giudice nei rarissimi casi di urgenza in cui si deve si può pronunciare si può pronunciare senza contraddittorio si dice inaudita altera parte ecco in quel caso il giudice laddove c'è già una sentenza laddove c'è già un provvedimento laddove c'è già ma come fai senza scendere nelle viscere senza sentire la tesi avversa senza a mettere in campo un provvedimento negatorio di sospensione ecco questo quando la giustizia si rende incomprensibile ingiustificata non più credibile è lì che cade il palinsesto su cui si regge la democrazia perché io sfido chiunque oggi a dire è ma un processo quello che dice la liturgia del politicamente corretto ma si facesse processare il processo è come un'operazione chirurgica nella sanità beh si facesse operare ma se io l'operazione me la posso evitare è meglio soprattutto se poi la qualità del chirurgo segue un andamento illogico abnorme non giustificato poco credibile ma vacci tu a fatti operare vaccinati tu vaccinati tu vaccinati tu vatti a far vaccinare ecco io io non mi fido più questo è il problema io non mi fido più è il clima di sfiducia che si è creato perché questi dalla sera alla mattina possono dire tutto il contrario di tutto e per rimanere agganciati a quello scranno sono capaci di tutto io diffido sempre da coloro che vengono da zero e su questo mi tiro giù il cappello e sono il primo a venire da zero però bisogna essere cresciuti per gradi perché se no Fabio quando arrivi su quel posto tu hai una fame atavica e la paura di risprofondare di tornare a vendere le bibite di tornare alle stalle che sei disposto a commettere i peggiori delitti i peggiori delitti certo guardate bisogna diffidare da persone che arrivano su con una rabbia voglio dire oceanica con una fame atavica una frustrazione perché si mangiano tutto si divorano tutto e sono disposti a fare qualsiasi cosa pur di rimanere su quello scranno ma addirittura dire noi siamo inutili noi ci dobbiamo dobbiamo andare a casa noi ci dobbiamo ridurre noi siamo stiamo qui ma non ci dovremmo stare ma voglio dire tu sei stato eletto dal popolo sei lì per fare qualcosa di utile per il popolo ma puoi avere quel tipo di concessione di te stesso di inutilità tu ti senti inutile ma ti sta rovesciando ma addirittura il presidente della camera che va a dire questi signori debbono presentarsi farsi riconoscere e poi chiedere scusa e poi aggiungo io un padre nostro un ave maria il segno della croce è tutto a posto allora lì innanzitutto bisogna se tu non sai scrivere le norme e ci sono dei soggetti che hanno il diritto di usufruirne poi si può discutere sul piano etico cioè tu cammini per la strada no lasci pacchetti da 10.000 euro 5.000 3.100 per strada io passo magari sono ricco ho la fortuna di essere non io io in personale ovviamente passo vedo i 10.000 per terra i 5.000 i 3.000 non li raccolgo perché sono scusa ma cioè poi magari qualcuno lo fa e non li raccoglie perché magari gli fa male a schia ma io sono tanto ricco che mi devo adesso abbassare però magari trovi quello che passa e li raccoglie e lo può fare no non vedo per quale motivo la colpa quello può dire ma scusa ma se quello là davanti me l'ha buttati per terra perché non li devo raccogliere poi ognuno farà i suoi giudizi quando si tratta di votare per esempio Salvini ha detto che qualora quando verranno rivelati i nomi se fossero della Lega non saranno i candidati ma noi qua abbiamo i navigator che continuano a prendere i soldi per 600 euro ti sei fatto ti sei fatto fuori una carriera politica ho capito ma noi possiamo riempire le pagine di giornali sul giudizio politico di quattro scemi abbiate pazienza ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare perché è tardissimo però la gogna è veramente una cosa cito giusto salutando il professore Pietro Salvatore dell'Huffington Post che scrive su Twitter quindi se sei benestante magari hai un incarico pubblico le aspettative di riservatezza si affievoliscono tra virgolette dice il garante per la protezione dei dati personali che è una stronzata aspettative di riservatezza ovvero la pubblica la pubblica gogna gestita dall'applausometro una roba pazzesca sembra Ronne Piperno quando gli tiravano le cose è una cosa pronta è così Enrico ma è possibile questa cosa sì o no solo una risposta secca perché è tardissimo guarda siamo nella barbarie cioè non puoi fare delle leggi trappola che poi chi ne usufruisce deve andare nella pubblica gogna se tu non le sai scrivere quelle leggi non le scrivere ma se una persona esercita correttamente un diritto sei tu cretino poi lui sarà sì lui possiamo dire che è un accattone esatto va bene poi al dibattito al bar possiamo dire di tutto va bene non ti ricandidi non ti ricandido io non ti ricandio certo io pure non ricandiderei uno che dentro al mio partito fa una cosa del genere ma io li darei in caccio ma che cosa ma non ti vergogni ecco sì però questi sono altri discorsi ma la pubblica gogna non si può fare è un altro ragionamento non è possibile e anzi anzi il diritto alla riservatezza nasce proprio per evitare la discriminazione la gogna mediatica gli atteggiamenti che possono essere la strumentalizzazione delle cose la strumentalizzazione allora quando voglio dire tu stai utilizzando in maniera cinica per averne dei vantaggi o comunque per creare dei danni in capo a qualcuno ledere magari la riservatezza è proprio quella cioè io cambio sesso e tu mi metti alla berlina perché magari vuoi avere un comportamento discriminatorio ecco allora in quel caso si accentua il diritto alla riservatezza che poi parliamoci chiaro il sistema fa sì che questi soggetti che sono nelle autoriti sono rigorosissimi nella ritualità ossia tu prova a chiedere un documento contabile ecco c'è una riservatezza assoluta se tu lo chiedi di aria capone d'altra parte non siamo tutti uguali davanti alla legge